Buongiorno mister, volevo sapere qual è lo spirito con cui affronterete questa gara dato anche alla luce delle notizie che sono arrivate ieri sulla positività di Nandez, come state vivendo il momento sia a lei sia alla squadra e se per caso adotterà qualche nuovo esperimento oppure se si affiderà a quelle che finora sono le certezze anche senza appunto dei giocatori importanti come lo stesso Nandez, Godin, Simeone. Ma sinceramente stiamo vivendo questo momento un po' come tutti, come nell'ambiente generale, come nella vita che questo virus subdolo arriva da un momento all'altro quando pensi magari di averlo superato come nel caso di Nathan che abbiamo avuto tante precauzioni iniziali, alla fine è venuto fuori. Per quello è un peccato ma dobbiamo guardare avanti e cercare di rinforzare i ragazzi che sono a disposizione e cercare di fare una partita vera, importante, determinata, dando qualcosina in più rispetto a quello che abbiamo dato perché ne abbiamo bisogno in questo momento. Con tutte le assenze che ci sono e anche giocatori che hanno anche una spiccata personalità dovremmo essere bravi a sopperire a questo con maggiore determinazione per quella che è l'approccio alla gara. Volevo chiederti, passando direttamente dopo le considerazioni sul Covid, le cose pratiche, Pavoletti come lo vedi? Come cambia il gioco del Cagliari con Pavoletti? Immagino che la palla possa volare di più e se hai in mente con tutte queste defezioni forzate di cambiare qualcosa nell'assetto, se vuoi dare continuità all'assetto, anche considerando il tipo di gioco di Pavoletti. Ecco, un quadro. Come cambia la squadra con Pavoletti? Credo di aver fatto già abbastanza cambiamenti per cercare di avvantaggiare tanti giocatori. Non è che ogni giocatore che arriva dobbiamo ricambiare o mettere la squadra solo a disposizione del calciatore. Credo che Leonardo si metterà lui a disposizione dei propri compagni, come è giusto che sia nel caso dovesse giocare, come ha sempre fatto, come ha fatto Cherry nell'ultima gara. È normale che è un giocatore che dal punto di vista fisico ti dà qualcosa in più nel darti la possibilità di alzare più la palla, ma questo per me non deve accadere perché non fa parte della filosofia su quello che abbiamo lavorato fino adesso. Dobbiamo essere ugualmente bravi a cercare di portare avanti quella tipologia di gioco che ci ha fatto fare anche delle belle giocate, ha creato delle situazioni offensive importanti e in questo dobbiamo dare continuità. È normale che quando arriviamo sul fondo avremo il vantaggio di avere un giocatore molto bravo di testa come lui e come lo stesso Alberto. Due cose. Mi allaccio a questa risposta perché mi sembra quindi di capire che comunque c'è un ballottaggio tra Cerri e Pavoletti. E poi un'altra domanda è cosa ti ha colpito? Se ne è parlato tanto in tantissime interviste in italiano, come succede sempre quando c'è una sorpresa. Cosa realmente ti ha colpito del gioco dello Spezia e ti colpisce? Grazie. Innanzitutto lo Spezia l'ho seguito con grande attenzione l'anno scorso perché sono stati ospiti del mio hotel, ma nello stesso tempo conosco benissimo l'ex direttore che è Angelozzi, che è stato mio direttore per tanti anni. Ho seguito con grande attenzione anche Vincenzo Italiano, che ritengo uno degli allenatori emergenti più bravi, per quello che cerca di dare alla propria squadra con identità, con un gioco offensivo, con aggressività. Mi aspetto una squadra che venga a fare la partita con spigliatezza e con conoscenza di quello che deve fare. È diverso tempo che giocano insieme. Secondo me hanno fatto anche un ottimo mercato, con giocatori adatti in maniera netta alla sua tipologia di mentalità e di gioco. Per quello non sarà una partita facile, ma lo sapevamo, anche prima delle ultime loro prestazioni. Ma anche loro potranno avere difficoltà per quello che noi andremo a fare durante la gara. Per quello sarà una gara giocata sicuramente a viso aperto da ambedue le squadre. Sì, sì, per forza di cose c'è, perché Alberto ha dimostrato di esserci, si è sempre allenato con una attenzione, come Leonardo. Per quello sono due giocatori che si stanno giocando il posto, poi io un po' una mia idea ce l'ho, ma non voglio dare vantaggi agli altri, questo sicuramente. Allora, ha detto che c'è ancora il ballottaggio Cerri e Pavoletti, però ha già un'idea, forse ce l'ho anch'io, non lo so se ci ho azzeccato. Però quanto conforto le dà nel momento in cui mancano giocatori importanti, Goudin, Nandez e Simeone, sapere di avere dietro comunque giocatori del peso, anche dell'esperienza come Pavoletti, giochi o non giochi. L'altra domanda che è legata a questa è, ha detto di non voler cambiare ancora il sistema di gioco, ancora una volta per non adattarlo a Pavoletti o a chi che sia. Le chiedo però in che modo intenderà fare questo, vista l'assenza di Nandez, che forse è il più difficile da rimpiazzare nello scacchiere rosso-blu. Questo sicuramente, perché come ho detto anche in precedenza, Nathan è un giocatore difficilmente sostituibile per quello che ti dà in campo, ti dà la possibilità di cambiare a partita in corso o a partita iniziale, di metterlo in più ruoli. È un giocatore d'utile come lui, in squadra non ce l'abbiamo in questo momento. E questo credo che sia l'assenza, tra virgolette, più importante, come è importante quella di Diego, per esperienza, per conoscenza, per personalità, come è importante quella di Giovanni, perché stava facendo benissimo, con facilità, era sempre pericoloso sotto porta. Ma sono contento che ci sia anche la possibilità per gli arti di mettersi in mossa, perché hanno veramente lavorato bene. Io possiamo disquisire dal punto di vista tattico della prestazione, ma sono veramente contento di allenare questa squadra e questi ragazzi, perché hanno una disponibilità impressionante nei miei confronti e nei confronti dei propri compagni. E questa non la dobbiamo perdere, dobbiamo ricordarci che deve essere la nostra forza che ci deve accompagnare in questo percorso, al di là degli spunti tecnico-tattici che sono sì importanti, ma diventano relativi quando all'interno di una squadra non c'è coesione, non c'è voglia di combattere, non c'è voglia di soffrire, come è successo col Verona anche in Coppa, specialmente nei primi 25 minuti e mezz'ora del secondo tempo, dove la squadra si ha sofferto, ma non ha mai smarrito la compattezza e la voglia di difendersi con grande attenzione. Lorenzo Oliveira, giornalista uruguayano, corrispondente in Italia, vi saluto la Milano. Qual è la sua opinione su Diego Godin e il suo adattamento ai Cagliari? Quali problemi ne hanno dato i casi positivi di Covid nella squadra come Nandes ultimamente? Ho avuto anche pochissima possibilità di allenarlo, ma ho potuto notare una spiccata personalità, conoscenza, competenza anche a livello tattico, perché è un giocatore con cui spesso parliamo di aspetti tattici, di situazioni difensive, perché è curioso, vuole capire quello che io voglio da lui. Devo dire che stava crescendo tantissimo nell'ultimo periodo, peccato il fatto della nazionale, che ci toglie tanto, il Covid, che non ci permette di dare continuità allenamenti. Spesso per assimilare certi movimenti, sia individuali che di squadra, è fondamentale allenarli. Bisogna allenare il fisico, bisogna allenare la mente, bisogna allenare tutto. E il Covid o la lontananza non ti permette di farlo. L'altra domanda qual era? Legata al? Al Covid, all'assenza di Nandes. Covid, non so che attenzione ci sia stata in Uruguay, nell'Uruguay, credo pochina per quello che è venuto fuori. E questa è una cosa che non ci possiamo permettere. La mia lamentela principale è stata legata alle nazionali sul fatto che spesso riuniscono tanti giocatori che vengono da diversi campionati dove non credo ci sia la stessa attenzione che in altri. Per quello tutto questo comporta anche da parte dei calciatori un'attenzione maggiore, che non è facile avere, ma che credo sia stata fatta pochino nel caso dell'Uruguay. Proprio a proposito della questione del Covid, io faccio un passo indietro. Quanto è difficile preparare una partita con la problematica russa del Covid che da un momento all'altro può togliere un giocatore? E quanta paura c'è per il prossimo tampone di questa sera che potrebbe, incrociando le dita e toccando tutto quello che si può toccare, eventualmente far perdere qualcun altro a poche ore della gara? Sì, è una grossa verità. È il pensiero più grande che abbiamo, che si lega un po' a tutti quanti noi perché alla fine siamo stati insieme con le dovute attenzioni, le dovute precauzioni. Però, come ho detto subito, questo virus è dietro l'angolo. E bisogna essere anche un pizzico fortunati. Mi auguro che i tamponi di stasera siano negativi e positivi per noi perché avremo tutti quanti poi quelli che sono rimasti rispetto ai positivi a disposizione. E si vive con un grande apprezzione perché ti modifica un po' il modo di pensare, ti può modificare anche l'atteggiamento tattico. Questa è la cosa che un po' mi da noi più di tutte perché vorrei dare sempre continuità a quello che è un po' il percorso di questa squadra ma spesso ci sono delle complicazioni e dobbiamo essere un po' pronti a tutti. Io mi preparo, vi assicuro che sto cercando di alzare l'attenzione in questo senso augurandoci che stasera i tamponi diano un esito positivo, nel senso positivo. Qualcuno la settimana scorsa, qualche collega, adesso non ricordo chi, ha detto quest'anno lo Scudetto lo assegnerà il tampone. Non solo lo Scudetto, mi sa che di domenica in domenica sta anche assegnando i punti in pari di ogni partita, quindi che idea ti sei fatto su questo? E poi l'altra curiosità è un po' sulla linea, abbiamo parlato dell'attacco, sulla linea difensiva come sta Clavan, è in grado di giocare dal primo minuto nonostante la ferita e credo che il grosso interrogativo maggiore su tutto il resto della squadra sia chi giocherà come terzino sinistro. Hai già una sorta di tua classifica personale, hai già deciso, anche lì sei ancora in attesa che la notte porti consiglio come ci hai detto in passato. Grazie. Eh, me la gioco, me la gioco sempre bene che la notte porta consiglio, capito? Per non dare risposte. È un alibi, è una scusa, no? Sicuramente se la giocheranno, anche lì c'è un ballottaggio tra Carboni e Trippaldelli. Valuterò dopo l'allenamento di oggi pomeriggio e stasera chi sarà più opportuno mettere in campo. Sì, se la giocano loro due per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, Clavan è recuperato perché si è allenato già con la squadra, ha fatto due sedute. Al di là della ferita che sta sempre in via di miglioramento, sono cose che accadono nel calcio ma spesso i calciatori riescono a recuperare da questo, per quello sicuramente Raghi sarà a disposizione. È un campionato sicuramente diverso dal solito, condizionato da questo, non aiuta tutti quanti, noi allenatori, anche i calciatori, a preparare le partite, ma è così e non deve essere poi un alibi per tante altre cose, dobbiamo viverla nel modo giusto. Dico solo che sposta tanto il Covid per tutti gli appuntamenti che ci sono, tutti ravvicinati. Spesso noi piccoli potremmo essere, tra virgolette, o medie squadre, avvantaggiate ad affrontare le grandi quando hanno giocato tante partite ravvicinate. E lì anche è un po' una roulette, un pizzico anche lì di fortuna di incontrarle perché potrebbero avere loro meno brillantezza in queste gare e bisogna approfittarne. Però è un campionato sicuramente non solito, è insolito per quello che si sta vedendo e per il fatto di assegnare punti, non è simpatico assegnare punti a tavolino in questo senso. L'ho subito personalmente una volta, i tre punti a tavolino non è una cosa che infastidisce. Io provo un po' a battere sempre sul tema della tattica del campo perché ha accennato un po' l'assenza di Nandez e uso un po' le sue parole. Vinta la situazione, visto anche la competenza è molto positivo. C'è l'idea di rialzare magari anche un centrocampista lì sulla linea dei tre per dare più equilibrio o sta pensando di partire magari dall'inizio con due giocatori offensivi sulle fasce come un asse sottile? Grazie. Beh non lo so, vedremo, però non voglio dare vantaggi a un ottimo allenatore come Vincenzo Italiano per quello non vi darò una risposta definitiva. Le soluzioni sono due, o partiamo con i quattro attaccanti o perlomeno con i quattro giocatori offensivi o mettere un centrocampista un pochino più alto tra i tre. Queste sono le uniche soluzioni, di alternative magari sceglietele voi o se mi riuscite a dare una mano datemela, se no partiremo con i quattro attaccanti offensivi. Non è un problema, non mi fa paura, è normale che poi bisogna essere bravi in questo caso a mantenere il grande equilibrio, sapendo che però quando attaccheremo potremo creare delle difficoltà agli altri. Per quello le opzioni sono due, le valuterò durante la notte. Questa notte sta diventando particolare. Stanotte non dormo. Qualche tempo fa aveva dichiarato che oltre a non avere un elemento come Nandez non ha un elemento con le caratteristiche di João Pedro. Mi correga, se sbaglio, ultimamente è sembrato forse un po' stanco, un po' meno incisivo del solito sia nella gara con la Juve che anche in quella di Coppa contro il Verona. Eventualmente ci sarà la possibilità di farlo rifiatare, eventualmente dare una chance a Pereiro che è vero che magari è più avvezzo al gioco sulla fascia che magari non al centro. Grazie. Ma di fatti Gas Pereiro lo sto provando da trequartista, come alter ego di João Pedro in tutti gli allenamenti. Devo dire che sta crescendo sì di condizione. Non ha per me nelle gambe ancora la possibilità di partire dall'inizio, però durante la gara può essere un ottimo elemento, eccoci, a partita in corso da poter utilizzare e sfruttare sia dietro l'attaccante che da esterno. Però João Pedro giocherà dal primo minuto. Possiamo dire che la difesa a te e a Stadrino è un esperimento simile a quello di Roque, alto contro la Stam, che non rivedremo più. E poi dall'altra parte ci sono alcuni ex, uno tra tutti e Farias. E' dispiaciuto di non averlo potuto tenere in bagaglia. Ma su Farias, non ho capito benissimo tutte le altre domande, però su Farias posso dire che è un giocatore che io conosco, perché l'ho allenato già al Sassuolo, è un ottimo elemento, però ci sono state tante dinamiche che poi hanno portato a questa scelta. Magari anche la volontà del calciatore di poter andare a giocare in altre situazioni, perché le cose poi si fanno in due. E' una scelta anche della società di poter portare avanti un altro discorso. Per quello io in questo momento sono contento dei calciatori che ho, sapendo che Diego oggi è un avversario pericoloso, perché ha determinate caratteristiche, perché è un giocatore magari non continuo, ma quando si accende può veramente essere devastante. Questo lo sappiamo e ne terremo conto con le dovute attenzioni per quella che sarà la gara. Credo tu mi abbia fatto la domanda sul fatto della linea difensiva legata a Roog. Non ho capito Roog. Non ho fatto la difesa prevista a Torino. Provo a spiegarmi la storia che si senta. Dicevo, la difesa prevista a Torino può essere considerata qualcosa che non rivedremo così come difficilmente rivedremo a Roog alti come con la Saga. No, no, la potete rivedere la difesa a tre. Perché no? Anzi, devo dire che dal mio punto di vista a Torino abbiamo rischiato meno, anche se poi eravamo magari meno incisivi, questo sì. Quando eravamo a tre, paradossalmente abbiamo preso anche due gol. Però in passato l'ho fatto, in altre occasioni mi ha dato grande soddisfazione. Non vi sto a ripetere in quali partiti me l'ha data, perché sennò divento noioso. E' normale che poi va preparata in certe situazioni con più tempo, ma l'ho fatto perché c'erano dei giocatori che dal mio punto di vista non erano ancora prontissimi contro una squadra come la Juve a giocare con la linea 4. Questa è stata la scelta principale. E non avendo un giocatore come Nathan che mi dava un equilibrio importante giocando nel ruolo di esterno, dove l'avrei sicuramente utilizzato. E questo mi ha portato a questo cambiamento provandola, ma c'è stato anche poco tempo per farlo in una partita obiettivamente difficile contro una squadra forte. Perché insomma, al di là del sistema, credo che spesso si abusa parlare di sistemi di gioco invece di prestazioni, di situazioni individuali. E a volte vanno ricercate anche quelle al di là del sistema di gioco. Per quanto riguarda ROG, l'ho già detto, che non ce l'avrei rimesso lì. Per quello domani non lo vedrete sicuramente alto a sinistra. Questo già l'ho detto, assodato. Non torno indietro a quello che ho già ripetuto nelle conferenze precedenti. Alberto mi ha fregato la domanda sulla difesa 3, quindi devo ripiegare su un'altra. Le chiedo, gennaio si avvicina anche dal punto di vista del calendario? Pensa che, visto il Covid, le assenze che non si possono prevedere, però pensate di avere una squadra che forse in questo momento in alcuni ruoli è un po' corta, invece a centro campo. Grazie. Sì, ci può stare anche se prematuro parlarne, perché come ho detto prima, in questo momento devo cercare di valorizzare e rafforzare i giocatori che ho, perché prima del mercato di gennaio avremo tante partite davanti e molto importanti. Ed è fondamentale fare punti, cercare di mettere più punti, portare più punti a casa. Per quello, in questo momento, non sono assolutamente per niente concentrato sul mercato. Ne parleremo in futuro. Noi stiamo facendo sì delle valutazioni, ma sono in questo momento prematura.